Ciao a tutti ragazzi, è tornato in un nuovissimo video Però, sono morto Però abbiamo fatto un ultimo apporto per questo, per fortuna Portiamoci la terra, prendiamoci un altro video Prendiamoci questo Speriamo di portarci qualcosa Abbiamo trovato due diamanti ma Prendiamoci un po' di cose così Prendiamoci un po' di cose così Prendiamoci un po' di cose più importanti Prendiamoci su Sono ricco di ferro ma non so semplicemente Prendiamoci un po' di cose più importanti Prendiamoci un po' di cose così Un po' di cose più importanti C'è una carica Del bambino 客ico Ma che ha fatto la grande della pista? Non so, dovrebbe essere quella... nella pista a Samineano, non so se ti ricordi nella pista di atletica che diventa si tracca è un'africana eh, Andri, non ha fatto solo quelli cosa è che hai fatto? Eh, spiega questo Eh, io non parlavo un'altra che è mortione Eh, bravo andrà va bene no 11 spada piccola adesso mi faccio provare fuori l'armatura non ne faccio provare perchè ho perso tutto davanti al torneo tutto quanto c'è questo mare si 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 se si 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 ora ci riusciamo a farci se volete sapere come sono morto sono morto per colpa della leva sono morto per colpa della leva ragazzo la porta non c'è ancora molte cose no raga ho perso proprio tutto anche le mele d'oro le mele d'oro me ne posso almeno la mia dolce devo rimettere anche io non c'è stato chiaro questo comunque sembra così da l'armatura poi gli utenti e adesso tutto si è anche largo non c'è un pochino di blocchi anche tutto il cibo ha fortuna che prendi visto c'è tutto il cibo infatti ho la la carota tutto il cibo è cresciuto non ci voglio subito di fare no non ci voglio subito di fare però se ci vediamo di montare tutto con nero come c'è ecco qua prendiamo tutto con nero e ora che questo eh no faccio le panini tutto ah un attimo è successo un pochino di tutti sti casino siamo morti poi per fortuna c'è altre cose passiamoci del cibo avevo anche la ceste a fortuna c'avevo anche la ceste di cose lì quella lì del cibo andiamo subito a metterci dentro le cimini di tutte le storie dove no 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 tutte le carote perchè è davvero poche non ecco quindi se sono davvero male perchè sono appena morto ero full ferro prima sono morto dalla lavata scelta full niente è proprio del genere è tutto ma nulla per fortuna ci ho tolto due diamanti no 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 ciao